salve buongiorno salve buongiorno allora qui c'è il menù vi volevo consigliare io qualcosa abbiamo come non si preoccupi non c'è bisogno dei suoi consigli e non c'è bisogno del menù ah fate le bruschette una porzione di bruschetta per favore arrivano subito e allora come primo io volevo consigliare la prego a penette alla norma ma ne porti una porzione buonissima oh chef mi devo aiutare allora praticamente c'è un cliente lì là che mi sta facendo impazzire praticamente annusa le posate e riesce a sapere cosa c'è abbiamo nel menù annusando le posate esatto ora lui mi ha chiesto un dessert e noi se ci vuoi un cucchiaino che possiamo fare? dammi questo cucchiaino pensaci tu faglielo usare questo e vediamo che dessert sceglie vai 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 di qua e lo porto e questo è il cucchiaino che mi aveva chiesto per ordinare il dessert grazie non ci credo chi è? ma lavora qua Lorenzo grazie grazie grazie